Era Spurs o Blacks e ce la racconta Giuseppe Di Giovanni Ciao Chiara, ciao a tutti Gli Spurs contro gli All Blacks Una partita importantissima per lo spettacolo Non tanto per la classifica Anche se gli All Blacks devono aggiudicarci Questo terzo posto, questa piazza d'onore Che li proietterebbe ai payoff Con maggiore favore Con la regola delle parecce Con due risultati su tre Spurs che giocano per l'onore Un campionato fantastico Quello degli Spurs che hanno preso soltanto la prima giornata Hanno ingrannato 11 risultati utili e consecutivi Una neoproposta che arriva al secondo posto Tanto di cappello per questi Spurs Che li trovano i capitano Antonio Lopiccolo E Alessandro Travai Quindi sono in 7 uomini Anche se effettano il solito apporto di Antonio Ditta Il motorino di questa squadra All Blacks che si presentano in nove al campo Ma non li sentono come al solito Dei cambi, freschi vincitori Nella Coppa di Lega di All Blacks Di Gianni Cosetti I Spurs subito servono in palla Fanno la partita tra cagliante serve Sottile al secondo minuto Sottile appoggia benissimo per Cardella Cardella però Spara il destro all'altro Altra punizione per Cardella Che sembra il più attivo dei suoi in questo inizio Calcia-Cardella Il pano è deviato dalla barriera Sfiora il palo E finisce sul fondo della portatela Rientrate in dovina Che si è sempre affermato con Giacomelli Quest'anno Gli Out Blacks si vedono poco Dalle parti del portiere Caruso Ma come al solito Quando entra Caldara La musica cambia Caldara entra al settimo minuto Tocca il suo primo pallone E distrugge il palo Della porta di Caruso Il primo pallone Continua da utilizzare dei pali Di Bico Caldara Cosa non può fare altro che osservare Questo bolide Che si stampa sul palo Gli Spurs però sono bravissimi Nelle azioni di rimessa Ce l'hanno sempre dimostrato Contropiede Dei Spurs Con Sottile che indesca Cardella Calcia-Cardella Marve spinge il portiere in dovina I Old Blacks comunque Sono velocissimi A trasformare l'azione Offensiva in offensiva Lo fanno con Corsare che scaglia con Cazara Corsare-Calcia Caruso esce la parola E sta lì Corsare-Calcia ancora E la parola Si stampa Solo travesse Secondo legno Dei Old Blacks Che rivedono gli spettri Nella finale Con i Lions Piena di legni E di sfortune Comunque I Old Blacks Adesso stanno crescendo Sono aumentando i giri del loro gioco E Corsare Sanno quello più in forma Missile Di Corsare Al dodicesimo Bucato Caruso Per una sera Di Old Blacks Un gol pazzesco Di Corsare Che è veramente Un giocatore meraviglioso Adesso Dispersa Si affinano Sottile Dalla no Intelligenza tattica Lo piccolo Che l'intelligenza tattica Ne ha da vendere Si infila In mezzo all'agra Ma non riesce A capitalizzare Il pallone Di La Rosa Comunque Adesso Gli Spurs Provano con le azioni Memorrate Mentre gli Old Blacks In due passaggi Si arrivano Affinmente Nelle quarti Di Caruso Incredibile Il cioriello di Caldara Supera la metà Del secondo tempo Spursa tutti A trazione anteriore Per cercare di recuperare Palla vacante Caldara Trova un accaccio Pazzesco Tiene un pallone Morto in campo Si presenta davanti A Caruso E Piazza Benissimo Il pallone Delle 2 a 0 Che sembra sotterrare Questa partita Ancora di più Sotterrata la partita Sembra Con il gol Delle 3 a 0 Altro contro il piede Letale Di Old Blacks Gran palla di Caldara Per Giarlusso Giarlusso Corregge Per Cosentino Che si presenta davanti Al portiere Stica il gol Dell'1 a 0 Per l'Ità Porta sbaldita Perché Caruso Era uscito Sull'offensiva Di Giarlusso Adesso I Old Blacks Sono totali I palloni del campo Ancora contro il piede Giarlusso Per Caldara Su Caldara Quello esce benissimo Garlusso Adesso I Old Blacks Continuano a spingere Ma riscono soltanto Con le palle inattive E infatti Accorcia Lo Piccolo Saccendandolo Un tema tattico È l'incapacità De I Old Blacks Di difendere Su palle inattiva Cacciolando Di La Rosa Movimento Da attaccante Di razza Di Lo Piccolo Che si ricorda Dell'1-3 E riapre questa partita Non ci sta però A tutto ciò Corsale Che con una punizione Devastante Segnia il 2 Del 4-1 E ristabilisce le distanze Qui però ci sono Le colpe di Caruso Che si fa letteralmente Bucare le mani Il sinistro di Corsale Caruso devia Poi nel tentativo Di cercare di smanacciare Con la palla Sulla della linea Non riesce a trattenere Il pallone E c'è il 4-1 De I Old Blacks Di punizione In punizione Ci prova adesso La Rosa La palla però Viene per spinta La indomina Sulla prima di Travagliante La palla Sbatte sull'attraverso Travagliante però Molto sotto tono Sarà veramente annullato Da un immenso Già rosso Che è veramente di testa Non lascia nulla Ai avversari Finisce il primo tempo Inizia il secondo tempo E ancora gli Spurs Con lo stesso copione Accorciano Con l'azione d'anno Stavolta però è Candella A suggerire per la Rosa Taglio identico A quello di Lo Piccolo Nel primo tempo 4-2 Qualcosa da rivedere Sui calci in angoli Per gli Old Blacks Old Blacks che però Gestiscono benissimo La palla Tengono lontani Alla propria area E gli Spurs Che ci provano Soltanto da fuori Ci prova la Rosa Ma mette sul fondo Poi ci prova anche Sottile Sui punizioni Ma resta in gentonina Che diventerà L'assoluto Tutto alla fine Secondo tempo I Old Blacks Si fanno vedere Con il solito tiro Di Cosentino A giro Tiro che abbiamo visto E rivisto Con Caruso Che svanaccia In calcio Nangolo Adesso Gli Old Blacks Provano Ad allargare Le maglie degli Spurs Con Corsale Che passa sul travagliante Va in porta Caccia Ma c'è sempre Caruso Che salva Sull'offensiva di Corsale Da questo punto Caldara Lascia il campo Per qualche problemino Se ne va Caldara Oltre che perdono Quell'imprevedibilità Offensiva Che avevano con Caldara Però gestiscono Egregiamente Il pallone Gli Spurs Ci provano Come è detto Soltanto da fuori Vari tentativi Con Sottile Con la Rosa Con il travagliante Poi però Sottile Ci prova con maggiore decisione E impegna Indovina Che è bravissimo A respingere Gioco molto spezzettato Molte punizioni Ci prova ancora a Corsale Su punizione Ma respinge Il portiere Caruso Dezze Che sono bravissime A cambiare Sempre modi di giocare Un 1-3 Che è diventato 2-2 Che è diventato 3-1 Un cavaleonte Questa squadra Gli Old Blacks Veramente Fantastici Gli automatismi Dei tutti nevi Che rischiano però Con un triplo intervento Di Indovina Che si supera Sottile La Rosello piccolo In rapida successione In 20 secondi Addirittura All'21esimo minuto Scheme identico A quelli precedenti Con la Rosa Nuovo movimento Sul calcio Vangolo Battuto Lalo piccolo Lalo saschiola in palo Sarà che stato Il terzo gol uguale Della partita Dei Spurs E la partita Si va Va verso la conclusione C'è un altro sicuro Di Corsale Su punizione Ma Caruso È bravissimo È gioco Un grande secondo tempo All'altezza Del proprio nove La partita Comunque finisce Con il 4-2 Dei Old Blacks Che si aggiudicano Il terzo posto In classifica E affronteranno I Francis Galler Nel playoff Una squadra Nettamente a trazione Anteriore In Old Blacks Una squadra Nettamente a trazione Posteriore I Francis Galler Mentre Gli Spurs Secondi in classifica Affronteranno I Rosenberg In quello che sarà Un playoff Si è già vista La partita Tra Spurs E Rosenberg Con gli Spurs Che hanno battuto Gli stessi uomini Di Averna Spurs che in class Sono pensata La quinta sconfitta Da quando sono nati Quindi Questa squadra Ha fatto veramente Tantissimo Nella sua scoria Nella sua breve scoria All'Interstituto Quindi Grandi squadra Ad essere le Spurs Che possono dire Tanto In queste fasi finale Perfetto come sempre Grazie Giuseppe Alla prossima Grazie